La rapido latina caccia 5 Deve ottenere assolutamente 3 punti Se vuole puntare davvero a vincere questo campionato Dovrà fare a meno come abbiamo avuto modo di ricordare di Medini Ottimo Bidinotti che poi colpisce il palo Si era liberato molto bene Bidinotti di Avellino e ha colpito un palo clamoroso Se ne va Cesaroni Tiro di Cesaroni, parata di Chinchio E poi sbaglia clamorosamente da 2 metri Da Silva, grande occasione per la formazione siciliana Sbaglia Terenzi, perso il pallone Attenzione, tiro e gol Capolavoro da parte di Bidinotti Che ha pescato l'incrocio dei pali Sanguinoso pallone perso però da Terenzi E poi azione e gol da parte della squadra siciliana Battistoni, attenzione Battistoni carica il sinistro e colpisce un altro palo Sfortunatissimo Battistoni Aveva fatto tutto bene Poi dall'altra parte Grande parata da parte di Chinchio Sul destro di Escobar Partita che si è accesa come una lampadina Maina, spalla la porta Prova a girarsi Maina Il tiro di Maina e il gol Grande bella azione da parte di Lucas Maina Maina, attenzione, intercetta un bel pallone Maina E poi realizza un gol dei suoi Lucas Maina, chapeau Che colpo di tacco da parte di Lucas Maina Che dopo aver guardato il portiere Ha deciso di beffarlo con un preziosismo Un virtuosismo d'alta scuola Che solo lui sa fare Lucas Maina È suo il gol del pareggio Cesaroni Maina Rosati, il tiro di Rosati Il gol, grande azione da parte di Enrico Rosati Rapidola tira a caccia a cieco E dimostra di avere grande carattere E comincia anche ad aver acquisito Delle sicurezze e decertezze Attenzione, grande parata Da parte di Simone Chicchio Doppio passo di Battistoni E poi il gol da parte di Avellino Ancora una volta Una spedita percussione sulla sinistra Da parte di Battistoni Che si è liberato di un doppio passo Del primo avversario E poi la corta respinta Delle portiere Della Via Grande Catania Favorito il tap-in Del giocatore Pontino E intanto il tempo scorre inesorabile Ancora Maina Gran gol da parte di Lucas Maina Che è stato servito Da un assist al bacio Di Yuri Bagoli Da fare E che il match Attenzione intanto Chieva il tiro da parte di Bidinotti Ancora Madonia Riceve Madonia Colpo di tacco E poi si salva In qualche modo La difesa dell'Atina Che segna il gol Del 6 a 2 Bidinotti Sentativo da parte di Rizzo Che gol Da parte di Rizzo Dal nulla Ha partorito Rizzo un destro Fulgurante Ha sorpreso tutti E anche il portiere Chinchio Bidinotti Continua così la rincorsa Alle prime della classe Da parte della formazione Pontina Trascinata da un immenso Lucas Maina Grazie a tutti Grazie a tutti